A cosa serve solidanaio, il salvadanaio indistruttibile? Esattamente a quello che stai pensando. A nulla. Con Enel One di Enel Energia arriva E-Box, il salvadanaio digitale che valorizza economicamente i consumi effettuati in più o in meno rispetto al piano scelto e con una monetizzazione annuale. Con E-Box ogni mese dai valore alla tua energia. Scopri l'offerta su enel.it